ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario sit self nutrition maxi sterilized informazioni commerciali titolare royal canin italia srl concessionario royal canin italia srl confezioni sit self nutrition maxi sterilize dose 12 kg sit self nutrition maxi sterilize dose 3 5 kg formulazione mais proteine di pollame disidratate frumento glutine di mais fibre vegetali idrolizzato di proteine animali grassi animali proteine vegetali isolate polpa di barbapietola olio di pesce lieviti e prodotti simili olio di soia sali minerali tegumento e semi di psyllium olio di borragine idrolizzato di crostacei fonte di glucosamina estratto di fiore di tagete fonte di luteina idrolizzato di cartilagine fonte di chondroitina additivi per chilogrammi additivi nutrizionali vitamina 24000 ui vitamina d3 1100 ui e 1 ferro 35 mg e 2 iovio 3,6 mg e 4 rame 11 mg e 5 manganese 46 mg e 6 zinco 135 mg e 8 silenio 0 e 0 6 mg l carnitina 200 mg additivi tecnologici clinoptilolite di origine sedimentaria 10 g conservanti antiossidanti componenti analitici proteina grezza 28,0 per cento olie grassi grezzi 13,0 per cento cenere grezze 5,8 per cento fibra grezza 6,7 per cento lip proteine selezionate per la loro elevata digeribilità indicazioni alimento completo per cani per cani adulti e maturi di grande taglia tra 26 e 44 kg oltre 15 mesi di età cani con tendenza ad aumentare di peso posologia guida l'alimentazione peso del cane 26 kg sedentario 269 g attività normale 320 g elevata attività 370 g peso del cane 32 kg sedentario 315 g attività normale 374 g elevata attività 433 g peso del cane 38 kg sedentario 358 g attività normale 425 g elevata attività 492 g peso del cane 44 kg sedentario 400 g attività normale 473 g elevata attività 549 g fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato 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 alimento veterinario esaminato